e ciao a tutti siamo località devignano provincia di cos'è nuara finora abbiamo fatto 56 88 chilometri e adesso ci dirigiamo verso il lago maggiore a san carlone a rona guardate che bello sto paesino devignano si chiama ma che bello questa è una chiesa sicuramente sarà dell'epoca molto antica spero che andiamo a vedere di che epoca è della mille la chiesa di devignano del 1660 diventi del pene non dichiarate però che alvescono queste no la più antica chiesa eretta in paese con il san stefano questo invece è del 27 agosto si del seicento 1600 guardate che bella questo è il paesino di devignano guardate che bel paesino guardate che bello che prese tranquillo da meno che ha fatto la salita che bella impegnativa non è una cazzata vedete già usiamo il tinoi guardate che bello tutta campagna guardate che spettacolo sto paesino niente dai adesso vi saluto che andiamo ci ricolleghiamo al prossimo step ciao a tutti